Da ben 724 anni la perdonanza celestiniana celebra il rito solenne che permette di varcare la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila per ricevere l'indulgenza plenaria in un atto intimo e coinvolgente, così come voluto da Papa Celestino V, riconciliazione profonda e pura di una comunità che in questi ultimi anni ha dovuto ritrovare in se stessa la necessaria forza per illuminare con rinnovata luce i propri luoghi. Un rito che quest'anno assumerà un valore ancor più elevato, rientrare nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio grazie al restauro terminato nel dicembre scorso, segno tangibile di ricostruzione rinascita in cui la Municipalità ha avuto e avrà un ruolo di primo piano. In questo contesto si riscoprirà una vecchia tradizione, l'attesa del fuoco del Morrone e l'accensione del Tripode sulla torre della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. La manifestazione partirà proprio con una cerimonia di attesa del fuoco del perdono a Collemaggio con l'istituzione sinfonica abruzzese e le voci recitanti di Lorena Bianchetti e Flavio Insinna. Il 24 agosto a Piazza Duomo la chiusura del tour mondiale di Jesus Christ Superstar. Il 25 Cocciante racconta Cocciante, il noto cantautore che si è ritirato dalla scena musicale si racconterà sui temi della perdonanza che sono famiglie a riconciliazione. Il 27 l'Aquila torna a suonare con musica di vario genere tra le vie del centro storico. Il 28 ci sarà l'apertura della Porta Santa e durante la notte, da mezzanotte fino all'alba, personaggi famosi e autorità si alterneranno in letture della Bibbia con intermezzi di musica antica e classica. Il gran finale il 29 agosto con il concerto di Francesco De Gregori.